Abbiamo visto uno dei tanti incidenti che avvengono qua alle Barbados, vengono queste ore di notte e anche di giorno, per via degli autisti, diciamo abbastanza allegri e che vengono di notte e di giorno a tutta velocità come fossero su una pista di forma 1. Comunque adesso qua siamo arrivati qua doveva arrivare il caffè, c'è per bere un caffè e qua vediamo cosa è successo questa sera, tanto per cambiare.